L'ultima novità in campo di chirurgia ortopedica è proprio la presenza nella nostra fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma del tecnologia MACO, è una tecnologia robotica che dà la possibilità a noi chirurghi di aumentare la performance in sala operatoria. È una chirurgia rivolta soprattutto alle persone affette da artrosi del ginocchio e dell'anca e la caratteristica è quella di aumentare la raccolta dei dati sia nel preoperatorio attraverso l'esecuzione di un ATAC che dà la possibilità di aumentare dei dati tridimensionali sull'articolazione del ginocchio e dell'anca, sia durante l'intervento chirurgico attraverso l'utilizzo di una tecnologia robotica e l'acquisizione di dati intraoperatori e l'incrocio dei dati preoperatori e intraoperatori affinare i nostri tagli e il posizionamento delle nostre componenti protesiche. Questo migliora sicuramente gli outcome, quindi i risultati funzionali del paziente nel postoperatorio è la possibilità di ripresa e di riabilitazione più rapida e accelerata che permette un recupero funzionale anche delle attività quotidiane e dare la possibilità anche ai pazienti della terza età di avere una vita migliore.